Un anno dopo siamo ancora qua con Marco Magni, titolare della Magniflex, Salone del Mobile. La collaborazione con il mondo dello sport e del rugby continua? Certo, continua. Siamo contenti di tutto. Le cose vanno benissimo, quindi non potrebbe altro che continuare. Castro Giovanni, Parisse Canale, punti di riferimento non solo per voi, ma anche per il movimento rugbystico nazionale. Importante avere tre giocatori di questo calibro comunque. Penso che abbiamo solamente i tre più rappresentativi del rugby italiano. Sono anche i miei preferiti come giocatori, quindi sicuramente sì. Sport, i valori del rugby, ma anche i valori della vostra azienda, sicuramente qualcosa che non può essere scisso parlando di questa collaborazione. No, certo. Se abbiamo scelto il rugby è proprio per questo, perché i valori si univano. Magniflex in tutto il mondo esprime tutti questi valori che sono quelli alla fine della continuità, della serietà. Sono appunto i valori che rappresentano il marchio Magniflex in tutto il mondo e non potrebbero sposarsi meglio. Si dice che nel rugby, come in qualsiasi sport, siano importanti, oltre alla performance, anzi per avere una miglior performance, tre cose. Mangiare, bere e dormire. Ecco, le prime due sono compito di altri, però sul dormire qualcosa dite. Ci pensiamo noi su quello. Siamo penso i campioni del mondo. Grazie. Grazie. Grazie.